Ciao a tutti, io sono Tepic, questa è la rubrica CineGeek, in cui parliamo ovviamente del mondo del cinema e delle serie televisive ogni lunedì, tutte le settimane, ed oggi parliamo di un cult assoluto della storia del cinema, diretto da Stanley Kubrick. Sto ovviamente parlando di Shining. Shining è sicuramente uno dei più grandi capolavori della storia del cinema dell'horror, e questo è abbastanza indiscutibile. Ha cambiato radicalmente il modo di fare horror, e soprattutto è stato anche importante, proprio da un punto di vista tecnico e cinematografico, per l'introduzione, per quasi la prima volta, della Steadicam, ovvero l'oggetto che permette di filmare come se la videocamera stesse volando, detta proprio brutalmente. In realtà era stata utilizzata precedentemente per alcune scene di Rocky, ma sostanzialmente la vera ed effettiva potenzialità dello strumento è stata utilizzata in Shining. A parte questo, perché Shining è così importante? E soprattutto perché molti ragazzi di oggi rimangono delusi guardando Shining, dicendo che sembra non fare molta paura? Ve lo spiego subito. L'horror moderno sta abituando sempre di più ad un semplice e banale sbalzo d'umore con uno spavento istantaneo, ma dopo la visione del film, di quel terrore non ti rimane assolutamente niente. Shining, come Rosemary's Baby e come tanti altri film importanti del cinema horror, e che comunque sono diventati dei cult movie, invece giocano sul terrore psicologico, ovvero su quel qualcosa che quando torni a casa e ti metti a dormire, ripensi all'opera che hai visto e ripensi a quanto ti abbia fatto paura. In quell'istante capisci che quello è vero e puro terrore. Chiaramente Hollywood non è affatto stupida. Perché dico questo? Semplicemente perché i film horror fatturano veramente tanto. E ad un certo punto la domanda che a qualche produttore sarà venuta in mente sarà sicuramente stata Perché dobbiamo investire tanti soldi per creare un prodotto di qualità e di incassare, quando possiamo investirne molto pochi e creare un prodotto anche di scarsa qualità che può incassare lo stesso? In effetti il discorso da un punto di vista economico non fa una piega. Ed è questa la risposta alla domanda Ma perché fanno così tanti film horror che in realtà fanno schifo? Semplicemente perché i ragazzi vanno a vederli, semplicemente perché sono una risposta ad una determinata domanda.